Come si articola il processo di allacciamento alla rete SNAM per un produttore di biometano? Principalmente si articola in due processi principali. Il contatto preliminare, che può avvenire gratuitamente, preliminamente alla richiesta formale di allacciamento, nel quale, identificata la posizione dell'impianto di biometano, diamo come risconto la smaltibilità della portata e le pressioni in gioco. Al momento dell'effettuazione della richiesta formale di allacciamento, viene invece richiesta la portata da smaltire come portata giornaliera e portata oraria, un deposito cauzionale di 2.000 euro a copertura della pratica, che verrà restituito una volta accettata la richiesta formale, l'offerta formale di allacciamento e una dichiarazione circa la qualità del gas da immettere. Effettuato questo, SNAM, nell'arco di 120 giorni, emette l'offerta di allacciamento verso il produttore biometano. Il produttore biometano può accettare questa offerta e lo step successivo viene, una volta realizzato l'allacciamento, dovrà essere sottoscritto un contratto di trasporto per l'emissione dei volumi di biometano. Quali sono i tempi che intercorrono tra una fase e l'altra? Per quanto riguarda i contatti preliminari, non ci sono tempistiche definite, possono essere richieste quante volte si vuole, con le tempistiche che preferisce il produttore. Per quanto riguarda la richiesta, una volta effettuata la richiesta ufficiale da parte del produttore e versato il deposito di 2.000 euro, entro 120 giorni, SNAM emette l'offerta. In questi 120 giorni si ha un termine di 60 giorni entro il quale definire il verbale di punto di riconsegna tra SNAM e il produttore. A valle dell'offerta, l'offerta a validità di tre mesi attualmente, è in corso una modifica per portare la validità di questo preventivo fino a nove mesi. A valle dell'accettazione di questo preventivo, ci sono i tempi di realizzazione che vengono definite il preventivo. Una volta realizzato l'allacciamento, il produttore ha tempo un anno per effettuare il conferimento di capacità. Dov'è possibile trovare queste informazioni nel dettaglio e chi contattare per inoltrare una richiesta di allacciamento? Queste informazioni sono disponibili sul sito internet SNAM.it, alla sezione business e servizi sviluppo della rete allacciamenti. È possibile contattare i colleghi dell'ufficio contratti dell'allacciamenti, il contatto via mail è contratti.allacciamento.snam.it, il numero di telefono è 02370 39191.